Ciao ragazzi e benvenuti o bentornati sul nostro canale. Recentemente abbiamo pubblicato dei video in cui abbiamo trattato gli indicatori di forza e performance relativa e il grafico di rotazione relativa, chiamato anche RRG. Questi indicatori sono molto utili e non a caso sono largamente utilizzati dai grandi investitori, come per esempio Bloomberg, perché sono in grado di fornire in modo semplice ed immediato informazioni riguardo le performance dello strumento finanziario di un'analisi rispetto ad un benchmark, ovvero un altro strumento finanziario utilizzato come riferimento. In questo video non voglio spiegarvi come si utilizzano ed interpretano questi indicatori, in quanto potete trovare queste informazioni nei video precedenti, cliccando qui in alto a destra o nei link che vi riporto in descrizione. Nei prossimi 10 minuti voglio invece presentarvi il file Excel che abbiamo sviluppato per le nostre analisi e che ci permette di avere tutte queste informazioni racchiuse di un unico report e di poterlo archiviare per averlo sempre a portata di mano, ma ancora pochi secondi di pazienza e ci vediamo subito dopo la sigla. Ciao ragazzi e bentornati! Ovviamente vi ricordo che le informazioni riportate in questo video e in quelli precedenti non devono essere interpretate come un incentivo all'investimento o come dei consigli finanziari, ma hanno il solo scopo di formare e di intrattenere. Bene, non perdiamo altro tempo e passiamo quindi al file Excel e vediamolo in tutte le sue parti. Appena aperto il file ci troviamo di fronte al disclaimer, nel quale dichiariamo che il file in analisi non rappresenta ovviamente un servizio di investimento, ma è solamente uno strumento che, attraverso determinati algoritmi, permette di ottenere un report composto da grafici e indicatori, dai quali poi sarà unicamente l'utente a prendere la decisione finale se investire o meno. All'interno del file non verrà quindi fornito alcun consiglio finanziario. Una volta letto il disclaimer e cliccato sul pulsante accetta, ci sbloccano tre fogli, la dashboard, il set di titoli e i dati storici. Partiamo dalla dashboard che ovviamente è il foglio principale del file, dopodiché vedremo anche gli altri. Innanzitutto bisogna premettere che il file scarica automaticamente i dati dei titoli di nostro interesse direttamente dal database di Yahoo Finance. Quindi, nonostante sia un database molto ricco e con dati precisi, è possibile che non siano presenti tutti gli strumenti finanziari di nostro interesse, o magari alcuni dati non siano aggiornati o corretti. In ogni caso si tratta di qualcosa di molto raro. Inoltre il file Excel riconosce i titoli che vogliamo analizzare attraverso i loro ticker. Bisogna fare però attenzione che Yahoo Finance in alcuni casi utilizza dei ticker leggermente o completamente diversi da quelli utilizzati in borsa. Per esempio l'S&P 500 è identificato con la sigla GSPC, preceduta dal simbolo dell'operatore esponenziale, il Dow Jones da DJI e il Nasdaq da IXIC. Per quanto riguarda le azioni e gli indici settoriali, solitamente i ticker coincidono con quelli di borsa, tranne in qualche raro caso. Per quanto riguarda le valute, comprese le criptovalute, anche in questo caso bisogna fare un po' di attenzione. Quelli che vi sta mostrando sono solamente alcuni esempi, ma come vedete sono piuttosto diversi da quelli utilizzati più comunemente. Anche per gli ETF generalmente i ticker cambiano e anche in questo caso vi riporto alcuni esempi. In caso di dubbi basta comunque andare sul sito degli Yahoo Finance attraverso il link già riportato nel file. Cercate quindi il titolo di vostro interesse e trovate il ticker già durante la ricerca o tra parentesi a fianco del nome. Vediamo quindi per esempio Microsoft la criptovaluta Ethereum e l'indice giapponese Nikkei. Per gli ETF invece vi suggerisco di andare sul sito di JustETF. Cercate l'ETF di vostro interesse, copiate quindi il codice ISIN e lo incollate nella barra di ricerca di Yahoo Finance e a questo punto vi verrà mostrato il ticker corretto. Sembra un po' complicato ma basta farlo un paio di volte per acquisire manualità. Nel caso ci sia bisogno di rivedere la spiegazione degli indicatori, in quest'area ho riportato i link ai video sul nostro canale YouTube relativi alla forza relativa e al grafico di rotazione relativa. Bene, passiamo quindi alla sezione di inserimento dati. In quest'area dobbiamo inserire i ticker degli strumenti che vogliamo analizzare. Come vedete c'è la possibilità di inserire fino a 11 strumenti finanziari. Questo numero ovviamente non è casuale, 11 infatti sono gli indici settoriali che compongono l'SMP500 e in questo modo si ha la possibilità di analizzarli tutti contemporaneamente ed avere una visione completa dell'andamento del mercato. Quelli che vedete sono infatti i ticker degli 11 settori in ordine alfabetico già preimpostati all'interno del file. Procedendo troviamo la casella in cui inserire il benchmark, ovvero lo strumento finanziario che vogliamo utilizzare come riferimento per la nostra analisi e con i quali tutti gli strumenti precedenti vengono confrontati. Quello indicato in questo momento è l'SMP500 che, come ho detto poco fa, è identificato nel database di Yahoo Finance dalla sigla GSPC. Si passa quindi alla scelta del periodo storico da analizzare, sia quindi l'inizio e la fine dello storico. Quest'ultimo è già preimpostato con la data attuale, mentre l'inizio è impostato tre anni fa, ma ovviamente può essere cambiato a piacere. Fate attenzione che se andate troppo indietro nel passato molti strumenti potrebbero non essere disponibili. In ogni caso non dovete preoccuparvi perché il programma procederà comunque con il download e scaricherà automaticamente i dati della data di emissione dello strumento. Il time frame può essere selezionato attraverso il menu a tendina e può essere giornaliero, settimanale o mensile. L'ultima impostazione riguarda solamente l'utilizzo delle criptovalute. Queste ultime, infatti, a differenza degli altri strumenti finanziari, non hanno nessuna interruzione del periodo di contrattazione. Nei fine settimana, infatti, il mercato rimane aperto. Nel calcolo dell'indicatore di forza relativa o nel grafico di rotazione relativa, bisogna quindi tenerne conto e selezionare nel menu a tendina la voce Sì. In questo modo verranno considerati i giorni di contrattazione corretti. Attenzione però, questo vale solamente se tutti i titoli selezionati, compreso il benchmark, sono criptovalute. Se anche solo una di esse è un indice azionario, un ETF o un qualunque strumento in cui la contrattazione viene interrotta nei weekend, allora bisognerà selezionare la voce No. Bene, a questo punto non rimane altro da fare che cliccare sul pulsante per scaricare ed elaborare i dati. In questo momento non lo faccio per evitare di allungare troppo il video. In genere il download e l'elaborazione dei dati potrebbe richiedere da poche decilini secondi a un paio di minuti in base alla quantità di titoli che vogliamo analizzare, alla lunghezza del periodo storico selezionato ed inoltre anche in base alle performance del computer che stiamo utilizzando e la connessione ai dati. Possiamo quindi passare ai risultati. Il primo grafico che ci si presenta è ovviamente quello di rotazione relativa. In questo caso abbiamo quindi le curve degli indici settoriali selezionati con time frame settimanale. La coda delle curve può essere variata da 0 a 40 settimane muovendo il cursore che trovate nella parte inferiore. Ovviamente se scegliete di visualizzare code eccessivamente lunghe il grafico diventerà incomprensibile per cui potete deselezionare alcune curve semplicemente utilizzando la funzione filtro per i grafici di Excel. Vi basta cliccare sul grafico nell'angolo in alto a destra e selezionare la terza icona in basso. Si apre quindi l'elenco delle voci che compongono il grafico e potete selezionarle o deselezionarle a vostra scelta. Inoltre gli assi del grafico sono impostati sul centraggio automatico. Dovreste quindi trovare sempre le curve centrate correttamente all'interno del grafico. Può capitare tuttavia che questa funzione di Excel non funzioni correttamente. In questo caso non dovete comunque preoccuparvi e basta cliccare con il tasto destro sull'asse che volete modificare, selezionare formato asse e cambiare manualmente i limiti minimo e massimo. Come abbiamo detto il grafico mostrato è con time frame settimanale. È comunque possibile cambiarlo semplicemente tornando al menu a tendina e selezionare per esempio il time frame giornaliero o mensile e il grafico cambierà automaticamente. Tenete presente che per costruire il grafico rrg mensile servono moltissimi dati. Si parla di diversi anni di dati storici. Il programma è predisposto per scaricare automaticamente tutti i dati necessari però nel caso siate interessati a strumenti finanziari con una data di emissione piuttosto recente il grafico rrg sarà disponibile solo parzialmente. Procediamo quindi con l'analisi del file excel. Spostandoci verso il basso troviamo per ognuno degli 11 titoli selezionati una sezione con quattro grafici. I primi due sono i grafici a candele dei prezzi del titolo in analisi e del benchmark. In questo caso vedete i grafici dell'indice azionario relativo ai materiali di base e all'SMP500. Questi grafici considerano il periodo storico e il time frame selezionati prima del download dei dati e non possono essere più cambiati se non scaricando nuovamente i dati storici. Dopodiché abbiamo i grafici di forza e performance relativa del titolo in analisi rispetto al benchmark. In entrambi i grafici vengono riportati in rosso e verde le curve dei due strumenti finanziari mentre in blu viene riportata la curva di forza relativa nel primo grafico e di performance relativa nel secondo. Inoltre è stata aggiunta la media mobile dei due indicatori per aiutarci durante le nostre analisi. La media mobile è impostata di default su 50 periodi ma può essere ovviamente cambiata cliccando sopra la curva con il tasto destro selezionando quindi formato linea di tendenza e cambiando il periodo. In questo momento il time frame selezionato è quello settimanale ma come abbiamo già visto per il grafico di rotazione relativa può essere cambiato. Possiamo quindi selezionare dal menu a tandina quello giornaliero o mensile e i grafici si aggiorneranno automaticamente. Bene questi quattro grafici sono disponibili per ognuno degli 11 titoli selezionati scorrendo quindi il foglio excel possiamo vedere tutti i risultati. Una volta arrivati in fondo troviamo un pulsante che permette con un solo clic di stampare in pdf tutto il report e salvarlo in una cartella nostra scelta dove possiamo quindi archiviare tutte le nostre analisi in modo da mantenere una traccia storica delle nostre scelte di investimento. Il file viene salvato in automatico con il nome forza relativa più rrg e la data in cui viene effettuata l'analisi ma può essere ovviamente modificato a piacere. Se apriamo il report in pdf vediamo che è composto da 12 pagine. Nella prima abbiamo i dati di ingresso quindi i titoli selezionati, il benchmark, il periodo storico e il time frame e nella parte inferiore il grafico rrg che ovviamente rappresenta la parte più importante del report. Dopodiché ogni pagina è dedicata ad ogni singolo titolo in analisi e contiene i quattro grafici che abbiamo visto poco fa. In questo modo quindi i risultati sono perfettamente ordinati, sempre disponibili e di facile consultazione. Bene, prima di terminare il video vediamo velocemente gli altri due fogli disponibili nel file excel. Il primo si chiama set di titoli e questo è un foglio di supporto per l'utente in cui può archivare gli strumenti finanziari di maggior interesse. Per esempio qui ho riportato i ticker degli 11 indici settoriali, le principali aziende del settore tecnologico utilizzando come benchmark all'indice XLK, alcune aziende del settore healthcare con benchmark all'indice XLV, poi ho riportato un esempio di alcune criptovalute utilizzando come benchmark il bitcoin ed infine possiamo preimpostare dei set con i titoli che abbiamo già in portafoglio o che stiamo tenendo sotto osservazione. Ovviamente questi sono solamente alcuni esempi, poi ognuno può inserire i titoli di maggior interesse o che ritiene più opportuno. L'ultimo foglio infine contiene i dati storici scaricati da EU Finance che possiamo eventualmente utilizzare per altre analisi. Bene ragazzi per questo video è tutto, spero che abbiate trovato il file che vi ha mostrato interessante ed utile. Per chi lo volesse vi basta scriverci alla mail che trovate in descrizione e vi contatteremo per farvelo avere. Se il video vi è piaciuto vi chiedo di mettere un bel like e se non l'avete ancora fatto di iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella per essere avvisati quando ci ranno i prossimi video. Vi ringrazio per essere rimasti fino alla fine e ci rivediamo molto presto!